Stabatave, doloroso Lettura del Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, passando, il Signore Gesù vide un uomo cieco, dalla nascita, e i Suoi discepoli lo interrogarono. «Rabbì, chi ha peccato, lui o i Suoi genitori, perché sia nato cieco?» Rispose Gesù. «Ne Lui ha peccato, nei Suoi genitori, ma perché in Lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di Colui che mi ha mandato, finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire, «Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo!» Detto questo, sputtò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse «Va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano «Non è Lui quello che stava seduto a chiedere l'elmosina?» Alcuni dicevano «È Lui», altri dicevano «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva «Sono io». Allora gli domandarono «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto «Va a Siloe e lavati». «Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero «Costui, di dove?» Rispose «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano «Quest'uomo non viene da Dio perché non osserve il sabato». Altri invece dicevano «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco «Tu che cosa dici di lui dal momento ti ha aperto gli occhi?» E gli rispose «È un profeta». Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono. «È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori di lui risposero «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero «È l'età, chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quello rispose «Se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro «Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete dirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Lo insultarono e dissero «Suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo «Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi». Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla». Gli replicarono «Sei nato tutto nei peccati e insegna a noi», e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse «Tu credi nel figlio dell'uomo?» Egli rispose «E chi è, Signore, perché io creda in Lui?» Gli disse Gesù «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse «Credo, Signore». Pace bene amici e ben ritrovati a questo appuntamento con la liturgia festiva, oggi quarta domenica di Quaresima secondo il rito ambrosiano. Il rito ambrosiano propone un Vangelo che viene tratto dall'Evangelista Giovanni, l'episodio del cieco nato che abbiamo appena sentito, ascoltato. Sono diversi gli spunti che possiamo ricavare da una lettura spirituale che possa essere adattata a noi, calata dentro nella nostra situazione. Innanzitutto esaminando i singoli personaggi, sono diversi personaggi che subentrano, che fanno la comparsa in questo brano del Vangelo. E poi cercando di riflettere su diversi atteggiamenti che queste categorie di persone adottano, fanno proprio rispetto a quello che è successo. Innanzitutto i discepoli vedono questo cieco della nascita e si chiedono «Ma chi ha peccato? Lui o i suoi genitori?» fanno di questa persona, utilizzano questa persona, strumentalizzano questa persona in un certo senso e lo fanno diventare un problema teologico, una disquisizione. Gesù che cosa fa invece? Lo vede, lo guarda, tra l'attento alla persona, agisce, fa del fango, lo spalma sugli occhi di questo cieco e gli dice «Vai nella piscina di Siloe e lavati». Siloe significa inviato, lui è l'inviato, lui invia questo cieco. Gli altri, la folla, sono persone titubanti, alcune dicono «Di sì, è successo questo, ma chissà se è vero». Farisei cosa fanno? Si cristallizzano sulla loro convinzione dentro e dietro le loro convinzioni. Ma prima ancora troviamo i genitori di questo cieco nato. I fraisei vogliono appurare se effettivamente questa persona, questo uomo, fosse stato cieco dalla nascita. Ma che cosa rispondono i genitori? Ma c'è la sua età, che è detto da lui, hanno paura, hanno timore, sanno che l'autorità costituita non vede di buon occhio questo profeta, questo Gesù che gira le strade, percorre le strade della Palestina, insegnando e operando miracoli e guarigioni. si deresponsabilizzano, non prendono opposizione, hanno paura. E poi soprattutto questi giudei, questi farisei, i quali si chiedono «Ma chi è questo Gesù che fa opera miracoli, ma trasferisce il sabato?» è un peccatore, però il fatto non può essere smentito. Il miracolo non può essere cancellato, lo vedono in tanti e quindi non possono definire quello che è successo una menzogna da parte di tutti, una illusione. È cieco dalla nascita, lo conoscevano in molti. Ecco allora, cerchiamo di vedere, di situarci dentro questo brano del Vangelo e di riconoscerci in parte per quello che siamo, perché in parte noi guardiamo alle situazioni e cerchiamo di dare una spiegazione verbale. Ma che cosa è successo? Ci disinteressiamo della persona concreta che incrocia il nostro cammino. Non ci occupiamo, non guardiamo bene quella che è la realtà, la vita che questa persona conduce. Passiamo oltre. Gesù fa diversamente, guarda e agisce. I farisei che cosa fanno? Si incapuniscono, si difendono, si baricano dietro le proprie sicurezze. Questo ha trasferito il sabato, ma è un peccatore, non può essere il Messia. Loro vedono peccato da tutte le parti, sono ossessionati dal peccato. Infatti è un tema che percorre, un termine che percorre dall'inizio alla fine questo brano del Vangelo, è appunto quello del peccato. I discepoli, ha peccato lui e i suoi genitori. E Gesù dirà poi, guardate che voi siete ciechi, perché dite ci vediamo, ma voi non ci vedete. E quindi rimanete nella cicità e quindi nel peccato. Ecco, allora Gesù che cosa fa? dice, sì, c'è il peccato, esiste il peccato. Perché è successo questo a questo uomo? Perché si manifesti l'opera di Dio. Quello che succede, succederà a questo uomo, è una manifestazione della gloria di Dio. In altre parole, come se Gesù dicesse, certo che c'è il peccato, certo che c'è il male, ma c'è anche l'opera di Dio. Certo che l'uomo ha continuato a peccare da quando ha fatto la sua comparsa dentro alla storia e sulla faccia della terra, però c'è anche l'opera di Dio. E io sono il salvatore, sono l'inviato, sono venuto per rinnovare tutto, per salvare l'uomo della sua situazione di morte. Sono il salvatore, non sono venuto per i sani che hanno bisogno del medico, ma per gli ammalati. non sono venuto a condannare i peccatori, ma a salvarli, a pronunciare e a comunicare a loro una parola di salvezza, a riportare l'uomo dall'oscurità, dalla cecità del peccato, allo splendore, alla luce che scaturisce da una salvezza. Con il battesimo noi siamo stati illuminati, siamo illuminati. e allora dobbiamo recepire, possiamo creare dentro, a meditare ogni singolo passaggio di questo brano del Vangelo, ma siamo soprattutto invitati, direi, ad avere lo sguardo di Dio, di Gesù Cristo, sulla realtà. Non è tutto male, c'è il peccato, ma è un incidente di percorso. È molto più il bene che sta attorno a noi del male che ci schiavizza. Cerchiamo di elevare lo sguardo. Io sono la luce del mondo, cioè ha ascoltato me, ha ascoltato la mia parola. La mia parola è una parola che illumina, che dà senso, senso alla tua esistenza, alla tua vita. Ecco, allora siamo soprattutto richiamati dal brano del Vangelo di oggi a uscire dalla nostra cecità, ad accogliere questa parola che ci salva, che ci illumina, che rinnova la nostra vita, che ci fa godere, vedere e godere della bellezza dell'esistenza, di tutto quello che c'è dentro di noi, al di fuori di noi, negli altri, nel mondo, nell'universo. Pace bene, amici, a risentirci. Stavodate, doloroso, Grazie a tutti.